eccolo qua senti che lavoro aspetta che ti diamo un microfono così giustamente racconti anche tu brevemente quella che è la tua esperienza con Pied buonasera a tutti quanti siete che bello buonasera famiglia Framigni buonasera Lella buonasera a tutti Cristiano Cristiana ciao a tutti grazie di questo magnifico invito che per me è rinnovato visto che ho avuto la fortuna di partecipare anche alla prima edizione e quando mi avete proposto di fare anche quest'anno ho detto non posso mancare perché poi io con Pied avevo insomma ci sentivamo ogni tanto ci siamo anche visti di persona tu sei cresciuto con Pier Flamigni tu da bambino quando i tuoi andavano a ballare ti portavano e tu stavi sotto il palco sotto la posizione di Pier dove c'è la signora bionda adesso buonasera signora bionda esatto dove io stavo io lo conosco lui fa tutte le dirette di Liscio Romagnolo si è quello che va in macchina ah bravissimo solo Liscio Romagnolo il resto non esiste bravo molto bene e io stavo dove c'è la signora adesso così ad ammirare Pier tutta la signora sì 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 ovviamente ho assorbito il 22% di quello che faceva lui forse il 18% però però sei qua questa sera è già un buon risultato credetemi per onorarlo assolutamente e lo farai con un brano con più brani ma in realtà questo è un brano anche questo poco conosciuto che sei andato a ripescare che a me piace tantissimo questo è un waltzer pieno di poesia secondo me e si chiama si titola battibecco e volevo aprire la mia performance con questo waltzer che a me piace tanto no dobbiamo anche suonare quello che ci piace chiaro certo ti metti in postazione lì dove c'era il clarinetto Marco Michieletti con la i attenzione in battibecco un attimo che si mette in postazione questo è un brano del 1979 funziona possiamo andare via andiamo grazie a tutti 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Salutiamo il nostro Bruno che rivediamo alla fine.